Ho immaginato un luogo in cui un'azienda si integra fino a fondersi con il suo territorio, nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo. Un luogo dove fosse bello lavorare, perché credo che la cosa più importante sia fare un mestiere che ci appassiona, ed è questo il modo migliore per essere felici. Ciao!